Ciao a tutti, io sono Andrea degli Innocenti d'Italia che cambia e oggi vi voglio raccontare questo 2016 d'Italia che cambia. È stato un anno incredibile, sono successe tantissime cose, adesso siamo alla fine, è il momento di tirare le somme, è il momento di raccontare tutto quello che abbiamo fatto. Alle soglie del 2017 vogliamo sperimentare questo format, questi video in cui ci raccontiamo, raccontiamo quello che facciamo, non l'abbiamo mai fatto, per cui se vi piacciono, se volete che ne facciamo altri, scrivetelo nei commenti, ditecelo in qualche modo, in qualche forma e noi continueremo a farli magari mensilmente, chi lo sa. È stato un 2016 davvero ricco, davvero pieno, pieno di cambiamenti, per cui quello che vorrei fare con voi oggi è semplicemente ripercorrerlo dall'inizio alla fine, partendo da gennaio. Avevo preparato dei cartellini bellissimi, ma non so dove ho messi. Dicevo, partendo da gennaio, tipo lettera minatoria, ma se non c'erano pennarelli, allora mi sono dovuto arrangiare. A gennaio, cosa è successo? A gennaio siamo partiti col bot, perché è andato online il nuovo sito, quel sito che vedete adesso, Italia che cambia, bello, con tutte, con sopra il giornale, sotto la mappa, poi revisioni e la campagna del 1%, tutte quelle cose lì, non c'erano fino al 2015, ci sono dal 2016, sono andate online a gennaio. L'altra cosa importante che abbiamo fatto a gennaio è che Daniel ha portato a teatro il suo spettacolo, La realtà è più avanti, la prima, c'è stata la prima, importante. Tra l'altro vi consiglio di andarlo a vedere, ci saranno altre occasioni e ve ne faccio vedere un pezzettino adesso, vai. 34 anni di buio, sarà che dopo 34 anni l'occhio si abitua, ma qualche volta mi sembra quasi di scorgere una luce, un frammento di luce, l'ho guardato da vicino, conteneva una mappa. Bello, eh? È venuta voglia andarla a vedere, febbraio. Abbiamo lanciato la campagna dell'1%, è questa campagna su cui abbiamo speso mesi per progettarla, per immaginarla, campagna dell'1%, 1% del proprio tempo, 1% del proprio stipendio, a disposizione del cambiamento. Abbiamo anche realizzato un video molto bello con gli amici di Insolito Cinema, di cui vi faccio vedere un pezzettino. Ecco qua. Ciao, sono Daniel, d'Italia che cambia. Nel 2012, stanco di ascoltare in tv sempre e solo brutte notizie, ho deciso di partire con un vecchio camper e di girare tutta l'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, alla ricerca di persone che di fronte a un problema non si chiedessero solo se, ma come. Come posso fare a cambiare? Questa è la tua occasione. Per cambiare le cose non basta un mi piace su Facebook o una X alle urne. Ci devi mettere la faccia. Diventa un agente del cambiamento. Vai sul nostro sito e partecipa alla campagna l'1% per cambiare l'Italia. Partecipa con 1% del tuo tempo o del tuo stipendio. Incontrare persone come te sul tuo territorio e insieme potremo attivare e promuovere progetti virtuosi dal basso. Possiamo dare vita ad un cambiamento inarrestabile. Scusate, mi sono fatto prendere la mano. A marzo ci sono stati due eventi importanti perché siamo stati sia a Fa la cosa giusta a Milano, sia al Rebirth Forum sempre a Milano organizzato dalla Fondazione Pistolei. Aprile. Allora ci sono stati i primi aperitivi al Quirinetta. Abbiamo iniziato a fare degli incontri. Si chiamano Oggi Cambio Vita, tra l'altro inizieranno da anno nuovo. Presentava Ezio, un altro nostro collaboratore. Ogni settimana presentavamo una nuova storia. Alessia Lacava, Danilo Casertano, i ragazzi di Slot Mob, Roberto Salustri di Transition. Insomma, tante belle storie di cambiamento che abbiamo presentato agli amici romani. Ad aprile abbiamo pubblicato le visioni 2040. Queste visioni a cui abbiamo lavorato con 100 ambasciatori, 100 rappresentanti di altrettante realtà, associazioni, imprese, comitati, università, cittadini. Con queste persone nel 2015 abbiamo scritto questi 17 documenti in cui ci immaginiamo un'Italia diversa, un'Italia nel 2040 cambiata. Ci proponiamo una serie di azioni concrete da iniziare a fare oggi assieme per cambiare le cose. E adesso vabbè, poi questa cosa ve la racconto dopo della campagna mensilisi perché non è più a vedere. Altra cosa per capire, non fischemi. Abbiamo fatto un viaggio nella Romagna, Romagna che cambia. Abbiamo, eravamo io, Daniel, Paolo e Davide a fare una serie di interviste e video che servivano per il lancio del portale Vivi Consapevole in Romagna, di cui siamo partner. Siamo arrivati fino in Cilento e in Cilento abbiamo fatto tutta una serie di altre interviste bellissime. Abbiamo fatto dei video per Banca Etica. A maggio c'è stato il primo compleanno di Casentino che cambia, il portale che abbiamo lanciato nel 2015 e adesso ha compiuto il primo anno. Il portale in questo anno è cresciuto tantissimo. Ci sono tante persone iscritte, tante storie raccontate, tanti eventi creati. Andatevelo a vedere anche questo. Vi lascio sempre il link in descrizione. E andate anche in Casentino perché vale la pena. È una delle zone più belle della Toscana e anche delle meno conosciute. A giugno cosa è successo? Ci sono stati i primi incontri degli eventi del cambiamento sul territorio. La campagna dell'1%, vi ricordate che si scrive alla campagna di eventi del cambiamento. Abbiamo fatto 10 incontri in tutta Italia. Sono quei momenti in cui poi tutto il lavoro che fai ti viene restituito dall'entusiasmo delle persone, dalla bellezza di questi incontri. Abbiamo fatti usando lo strumento della facilitazione che è qualcosa che noi cerchiamo di portare in tutti i nostri incontri. Il come stiamo assieme a volte ha anche più valore del perché stiamo assieme o del cosa facciamo assieme. Abbiamo fatto questi incontri quindi con Comunitazione, che è un'associazione che ha sede a Ceglie Messapica, nonostante siano una fiorentina, un romano e una veneta. Saluto Melania, Giulio e Ilaria che sono stati le nostre guide in questi incontri perché senza loro non sarebbero stati, forse li avremmo fatti, ma non sarebbero sicuramente stati così belli, così efficaci e così emozionanti. Ecco, luglio. A luglio siamo stati, leggo perché non me ne ricordo neanche tutti, alla Rive, dove c'è andato Ezio, ha fatto un sacco di belle interviste, c'è stato Eco Futuro, gli Escape Mondays e poi c'è stato questo bell'incontro, questo bell'evento in Casentino che si chiama naturalmente Pianoforte, in cui per una settimana ci sono stati pianoforti, spari soprattutto in Casentino e gente che suonava così, a caso. Fra l'altro a luglio è successa un'altra cosa importante, sono stati aperti i portali per la comunicazione tra gli agenti del cambiamento. Chi non è un agente del cambiamento di stasera non tira niente, però vari agenti del cambiamento, che ne so, toscani, hanno avuto a disposizione una piattaforma toscana.chelcambio.org per comunicare fra di loro, quindi una piattaforma dedicata alla comunicazione e all'interazione degli agenti del cambiamento, ovvero degli iscritti della nostra campagna in un per cento, agosto. Mentre tutti erano andati in vacanza, il nostro buon Luca, da Berlino, stava aprendo assieme a degli altri ragazzi e ragazze tedesche, un portale che si chiama Berlin in Wandel e un altro che si chiama Brandeburg in Wandel. Sono la trasposizione tedesca dell'esperienza dei portali regionali in Italia. Sono segnali molto importanti, il fatto che ci sia interesse per una cosa del genere anche in Germania, che un modello sperimentato in Italia venga esportato in Germania, ci rende pionieri di un certo tipo di cambiamento anche in Europa, in qualche modo. Guardiamoci un video di Berlin in Wandel, in Italia. Sono curioso. Io sono Gian e sono 22 anni, studiare politica e Wirtschaft a la Uni Potsdam. La Uni Solar è stata 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 in Italia. Tutto chiaro, no? Tadam! Settembre. Partiamo con due giorni assieme a Cristiano Bottone che ci ha raccontato, ci ha introdotto al magnifico mondo della transizione. Perché la transizione è un tassello veramente fondamentale per il cambiamento, per cui guardatele, ma soprattutto approfondite, perché non si capisce. Finché non ci sbatti la testa per un po', non capisce se ha la transizione. Dopo il transition training era stato l'8 e 9 i settembre abbiamo fatto il bike tour il bike tour è stato forse uno dei momenti più belli dell'anno siamo partiti inseguendo questo gruppo di matti e di matte del movimento della decrescita felice che siamo messi in testa questa impresa folle di farsi il giro di tutto il sud Italia in bicicletta tra l'altro in mezzo a dilubi, nubi fragili cioè cose veramente dell'altro mondo ora vi faccio vedere qualche piccolo pezzetto di filmato di questo per farvi rendere conto di cosa stiamo parlando e due secondi dopo il tempo di coprire i libri gli altri erano già tutti sulle rosacche a prendere la roba da coprirmi avevo già tutta l'acqua addosso e ho avuto come un ricordo angosciante del primo giorno del freddo proprio ancestrale provato il senso di morte imminente d'assideramento girare in bici vuol dire anche questo il senso di precarietà di provvisualità e anche di bisogno che qualcuno comunque ti dia una mano ti dia un riparo e noi li abbiamo seguiti col camper con la scusa che dovevamo fare i video riprese e quindi avevamo l'attrezzatura e non potevano andare in bicicletta ma vi confesso che quando venivano giù non so quanti secchi d'acqua al secondo la cosa non è che ci facesse proprio schifo sono partiti dalla Puglia Daniel assieme a Paolo ad Emanuele e a Roberto sono arrivato a un certo punto dato il cambio a Daniel che ecco anzi guardatevi intanto questo messaggio straziante dell'addio di Daniel eh sto per partire il mio viaggio col bike tour termina qua lascio il passaggio di testimone ad Andrea e a Roberto poi Paolo eccetera e sono dispiaciuto sono dispiaciuto perché è stato bellissimo girare la Puglia seguire questi passi in bicicletta sentire i discorsi sulla decrescita ma soprattutto raccogliere nuove storie che abbiamo inserito sulla mappa nuovi incontri nuove emozioni è stato veramente un momento bellissimo perché abbiamo incontrato delle persone bellissime ci hanno offerto anche lì pranzi, cene, l'accoglienza al sud Italia è una cosa impressionante sempre a settembre subito dopo il bike tour c'è stato anche Sarastus questo incontro organizzato da Rossana Becarelli sempre a settembre c'è stato anche Sarastus questo incontro organizzato dalla nostra amica Rossana Becarelli per far incontrare tutte le realtà che fanno rete che si muovono nei mondi del cambiamento A ottobre cosa è successo? A ottobre abbiamo lanciato la nostra prima campagna mensile energia, ad ottobre cambia la tua energia, così si chiamava la campagna passa alle rinnovabili, no? Passa a un contratto 100% rinnovabile cambia il tuo gestore oppure cambia il tuo contratto sembrerebbe che circa una cinquantina abbia cambiato il gestore per forse altrettanti hanno cambiato il proprio contratto un discreto impatto per essere la prima campagna a novembre, mentre continuava sempre la campagna energia c'è stato il lancio del lancio, l'apertura della pagina dei corsi che vuol dire? Vuol dire che visto che la rete d'Italia che cambia quelle 1800 realtà che stanno sulla mappa organizzano dei corsi di formazione sono anche un bagaglio di conoscenze per il cambiamento molto importante abbiamo fatto questa pagina che è online appunto da novembre dei corsi, dove potete andarvi a vedere parte di quello che è l'offerta formativa della rete d'Italia che cambia sempre a novembre c'è stato come ogni anno il festival più bello della Sardegna Scirarindi, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo alla fine che succede a dicembre? ah, abbiamo lanciato la nuova campagna a Natale non mangiamoci il pianeta cui diamo una serie di consigli per essere sostenibili sotto le feste un'altra cosa che è successa a dicembre è che assieme a CO2 sarebbe un'associazione con cui collaboriamo ormai da più di un anno Crisis Opportunity Onlus stiamo lavorando allo sviluppo, al miglioramento della nostra mappa è un aspetto su cui stiamo investendo abbastanza grazie appunto alla collaborazione con CO2 e che ringraziamo, quindi Giulia, Giulia, Giulia e Noemi abbiamo due nuove collaboratrici una è Rachele che ci sta aiutando appunto su questo lavoro sulla mappa l'altra è Leonora che invece ci aiuterà il lavoro di contabilità quindi per concludere è stato un anno veramente, veramente pieno ve ne sarete resi conto anche dal numero di minuti di questo video che spero di riuscire a tagliare abbastanza è stato un anno pieno, bello, faticoso, emozionante in questo anno siamo cresciuti tantissimo anche a livello di visualizzazioni di utenti su Facebook se vi interessano, se vi interessa è tale che cambia iniziate a seguirci su Facebook, su YouTube, sui nostri canali guardatevi il nostro sito come vi dicevo all'inizio, se questo video vi è piaciuto se questo video vi piace, ditecelo perché almeno ne facciamo appunto se volete sostenerci, aiutarci se volete, se vi piace il lavoro che stiamo facendo e volete aiutarci a farlo sempre meglio potete contribuire all'Italia che cambia iscrivendovi alla campagna Gente del Cambiamento potete fare una donazione anche semplice andate sulle pagine che vi metto qui sotto nella descrizione del video e soprattutto continuate a seguirci questo video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto appunto fatecelo sapere e buon 2017 a tutti ciao Scusate, pensavate fosse finito ma mi sono ricordato che non ho detto una cosa nel frattempo ho disfatto tutto il seto vi dietro non mi importa mi sono dimenticato di dirvi una cosa importantissima mi sono scordato di nominare nel video in realtà tutte le persone che tante persone che sono le anime d'Italia che cambia e che non le ho proprio nominate quindi mi sembrava brutto e quindi le volevo nominare tutte assieme quindi Alessandra che è la responsabile la direttrice del giornale Giulia che è la responsabile della mappa Francesco che è il responsabile social e community Daniela responsabile degli agenti del cambiamento vabbè a parte Daniel che conoscete tutti c'è Paola che è il responsabile dei video Luca che è il responsabile web Davide che è il responsabile pianificazione e apprendimento che è una roba strana ma che è veramente figa è utile e Filippo si occupa soprattutto della strategia economica e Roberto che da adesso si dedicherà a Piemonte che cambia che sarà una delle grosse novità del 2017 certi due che ancora non vi ho detto niente ma acqua in bocca non lo dita nessuno alle nuove arrivate Rachele e Eleonora e appunto a tutte le persone che collaborano da tanto tempo da poco tempo con noi Annalisa, Pierluigi, Elisabetta, Noemi le due Giulie, diceo due Tommaso, Roberto altro Roberto, quello umbro a cui tra l'altro va un grosso in bocca al lupo perché la sua casa è stata colpita veramente dal terremoto e a tutte le persone che ci seguono quindi grazie a tutte queste persone da parte di tutta Italia che cambia ciao